Il profeta annuncia che alla fine dei tempi verrà tolto il velo dai nostri occhi e vedremo finalmente il Signore. Potremmo dire di aver fatto bene a porre in Lui ogni nostra speranza. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno il Signore degli eserciti preparerà su questo monte un banchetto per tutti i popoli. Egli straperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. Farà scomparire da tutto il paese la condizione disonorevole del suo popolo, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Parola di Dio. In quel giorno, in quell'ultimo giorno, il Signore strapperà il velo che copriva la faccia di tutti i popoli. È come se su di noi ci fosse un velo che impedisce di vedere. In quel giorno il Signore strapperà il velo e potremo vedere oltre e riconoscere com'è la realtà. Scrive queste parole un profeta apocalittico che ha composto un poemetto inserito nel libro del Grande Isaia. I moderni hanno adoperato la parola apocalisse per indicare proprio la rivelazione. Non è una catastrofe, una distruzione, bensì una rivelazione. E il profeta apocalittico annuncia che il velo viene tolto. Il nostro sguardo è svelato, per cui riesce a vedere oltre il dramma della morte. E il profeta a nome di Dio annuncia che per quel giorno il Signore prepara un banchetto per tutti i popoli. È una immagine di festa, di inaugurazione. Anche noi siamo abituati, quando si inaugura qualche cosa, a celebrare un banchetto. Non solo la parte liturgica, ma anche quella gastronomica fa parte della nostra festa. È difficile che ci sia una festa senza che si mangi qualcosa. L'inaugurazione del nuovo mondo comporterà un banchetto per tutti i popoli. Lo preparerà il Signore e inviterà a mensa tutte le genti. È il banchetto escatologico, è quello finale, è la grande festa dove il Signore ci invita alla sua mensa. L'Eucaristia, che noi celebriamo lungo tutta la nostra vita, è un anticipo di quel banchetto. Pregustiamo il banchetto celeste. Non è ancora la pienezza dell'incontro, è già un incontro, ma velato. Il Cristo è presente sotto i veli del mistero. Quando sarà svelato, e lo vedremo così come egli è, potremo sedere a mensa con lui. Non solo simbolicamente, come facciamo adesso nell'Eucaristia, ma realmente, e ci sazieremo della sua presenza. Quando avrà strappato il velo che copre ogni popolo, Dio eliminerà la morte per sempre e asciugherà le lacrime su ogni volto. È una semplice espressione poetica per indicare come Dio sarà il consolatore e darà autentica consolazione a tutte le persone che hanno versato lacrime, che hanno sofferto e pianto. Ci sarà un compenso per quelle lacrime. Il Signore le asciugherà, nel senso che ricompenserà. Sarà lui la nostra ricompensa e farà scomparire la condizione disonorevole del suo popolo. La nostra condizione di peccatori, di persone soggette alla caducità, fragili e mortali, sofferenti. È una situazione disonorevole. Il Signore la farà scomparire. Nel suo regno non ci sarà più né pianto, né lutto, né morte, né pena alcuna. In quel giorno, quando saremo a tavola con il Signore, ospiti nella sua casa, finalmente liberati dalla nostra fragilità, potremo dire, guardandoci indietro, abbiamo fatto bene a sperare in Lui. Ecco il nostro Dio nel quale abbiamo sperato. Abbiamo posto la nostra fiducia in Lui perché ci salvasse. Abbiamo fatto bene a farlo. Quel giorno lo potremmo dire con piena convinzione, con grande soddisfazione. Rallegriamoci ed esultiamo per la sua salvezza. Adesso lo ripetiamo nella speranza, cioè attendiamo con certezza che si compia quel suo progetto. Il Signore ci ha invitati alla sua mensa e ci ospita nella sua tenda. Davanti a noi prepara una mensa alla faccia dei nostri nemici. Contro i nostri peccati ci dà accoglienza nella sua casa per liberarci dal male. Versa l'olio della Letizia sul nostro capo e il calice trabocca di gioia. Quel giorno lo vedremo, perché sarà tolto il velo. Adesso che camminiamo ancora nell'oscurità velata del nostro tempo, ci consoliamo a vicenda con queste parole della fede, perché il nostro cammino abbia una direzione, perché adesso possiamo avere fiducia nel Signore. E un giorno potremo dire abbiamo fatto bene ad avere fiducia nel Signore. La meritava tutta. Abbiamo scelto bene. Questa è la saggezza dei Suoi eletti, scegliere il Signore e fidarsi di Lui. Un giorno capiremo di aver fatto bene.